E' una partita dura stasera perché la Juve ha più quattro, però il campionato finisce a maggio. La squadra deve crederci, deve avere forza, passione, energia, rabbia sportiva di voler arrivare in alto. Io penso che ce la giocheremo fino alla fine. La Juve è una squadra che ha esperienza, sa stare in alto. L'altro è un fatto grave, è capitata in signa come capita a tanti cittadini ogni giorno, a Napoli come altrove e alle persone famose. La statistica dice che accade a Milano come a Napoli, a Palermo come a Roma, a Bologna come a Genova, accade ovunque. Quindi non c'è un caso particolare. Spiace che continuano episodi criminosi nelle nostre città. E questo è l'impegno che forze dell'ordine e magistratura mettono in campo e devono mettere in campo per prevenire, reprimere e assicurare alla giustizia i malviventi.